Salve e benvenuto al nostro amico libro, apriamo con una prima ricca sezione, come al solito, di carattere più edificante, per così dire. Dalle Paoline, Gianluca, Mangieri, Goccia dopo Goccia, Pensieri di vita. E tutto il volumetto, vedete, è illustrato a colori, caccia al tesoro. Chi trova un santo o una santa trova un tesoro, una pallottola nella corona. E ricorda questo episodio che ha toccato Giovanni Paolo II. Un'altra strada, c'è un'altra strada anche per te. La notte di San Lorenzo e così via. Dalla editrice vaticana, Benedetto XVI, Dio è sempre nuovo. Pensieri spirituali, prefazione di Papa Francesco, che ha fatto seguito al pontificato di Benedetto XVI. Ed ecco questi pensieri. Cercare Cristo, anelito da coltivare. Pregando ci apriamo agli altri. Il senso della vita germoglio in famiglia. Vedete, possiamo inquadrare. Sono tutti messaggi ripresi dall'attività, dalla predicazione del Papa. Messaggio per la venticinquesima giornata mondiale della gioventù. Discorso di partecipanti, eccetera. e via di questo passo. Dalle Deoniane di Bologna, per i nuovi saggi teologici, Piero Coda e Alessandro Clemenzia, il terzo persona, chiarissimo, lo Spirito Santo, infatti per una teologia dello Spirito Santo. Per questo volume vediamo un po' tra le molte ricche citazioni che vengono evidenziate sia nel testo sia in nota. È facile trovare qualche riferimento, pur apparendo molto spesso superficiale, ridurre il discorso intorno allo Spirito Santo a una forza impersonale, è necessario ribadire il carattere dinamico della terza persona e della Trinità, come appare a partire dal significato di Ruach, cioè lo Spirito. E così vedete tutte queste citazioni che arricchiscono il volume. L'unità nella Trinità, il ruolo dello Spirito Santo. E leggiamo Agostino. Tutti gli aspetti cattolici dei diversi libri dell'Antico e del Nuovo, che hanno scritto prima di me sulla Trinità che è Dio e che ho potuto leggere, in tesoro, disegnare in base alle scritture, questa cosa, che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo rivelino l'unità divina da vivere in Maria Antonietta Mele se amor sapesse. Bisogna avere coraggio per incontrare amore. Vedete già in copertina questo albero dove fiori e frutti sono sostituiti da tanti cuoricini. E all'interno continuano queste immagini, queste illustrazioni che arricchiscono e completano il testo. La perla, amore incredulo. Una tale domanda, dove è finita la tua perla? La conchiglia risponde, non so, io l'ho trovata, l'ho curata, l'ho amata. Fuori è scivolata, l'ho cercata, l'ho chiamata. Forse se n'è andata, forse si è persa, forse non era nemmeno mia. E da messaggero di Padova, Oliviero Svanera, Siqueris amare, è l'inizio dell'inno, se vuoi amare, 13 meditazioni per single, coppie e cercatori d'amore, con l'introduzione di Alberto Tortelli. E vediamo un po' tra le molte citazioni, la prima da Etti Illesum, nel diario, credo che questo sia un inizio e credo di essere sul punto di maturare lentamente verso questo obiettivo, prendersi sul serio, credere in se stessi e credere che abbia un senso, cercare di trovare la propria forma, si scappa tanto spesso da se stessi. Questo è il diario di Etti Illesum. Ogni capitolo, vedete, si conclude con una preghiera. O Signore Gesù, anche a noi a volte abbiamo avuto la sensazione, anche noi a volte abbiamo avuto la sensazione di trovarci sulla barca in mezzo alla tempesta con l'angoscia di non farcela, sentendo la solitudine e la disperazione dentro di noi. Amore e fede. Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia, così Ernst Hemingway. Fino alla fine abbiamo ancora una preghiera. Caro Sant'Antonio, tu che sei stato un umile e grande ministro del sacramento e della ricordazione, aiutami a perdonare chi mi ha fatto del male. Alle Paoline, cos'è Maria Rodriguez o la Isola, libera la gioia. E anche in questo caso cominciamo con una citazione per dare un'idea di questo liberare la gioia. Niente è sempre. Qualche sociologo ha parlato diffusamente della società contemporanea come di una società liquida. Sigmund Bauman è colui che ha generalizzato il discorso sulla società liquida. No limits. Ecco un altro grido di guerra dalla cultura contemporanea. Quando una nota marca di calzature sportive scelse questo slogan, sicuramente si aspettava, neppure nelle più rose previsioni, il successo che avrebbe riscosso. La promessa era evidente. Chi ha detto che abbiamo dei limiti e così fino alla conclusione. Un bel grosso volume che copre un'annata dalla Pontificia, Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Tommaso d'Alquino, Napoli, di Acta Criminalia, Facile, atti criminali dell'Archivio storico diocesano di Napoli, inventario 1493-1799 a cura di Michele Mancino, volume monografico di Campania Sacra, rivista di storia sociale e religiosa del Mezzogiorno. Allora, vedete questo bel ricco volume che va consultato per vedere che cosa succedeva, per esempio, Tribunale Arcevescoville di Napoli, processo sommario a religioso Agostino De Muro, sacerdote Tommaso Basile, sacerdote Antonio Perozzo, chierico Giuseppe Pellegrino, chierico Gennaro Iacomino, chierico Giuliano Migliaccio, rissa e ferita nelle carceri del Can, il centro appunto di Napoli e via di questo passo. E passiamo a un'altra sezione con questo volume della Carocci l'evoluzione della conoscenza dalle origini all'antropocene con il con l'indice possiamo farci un'idea di questo ricco volume la storia del pensiero meccanico scienza e conoscenza la scienza come un golem struttura della rivoluzione scientifica teoria storica della conoscenza umana epistemologia genetica e storica la ragione sociale il contesto storico la rappresentazione dell'opera l'aritmetica la scrittura le formule chimiche fino andando avanti l'economia della conoscenza non società non alfabetizzate e società alfabetizzate la cacciata dall'olocene la bolla dell'olocene fino alla scienza e le sfide dell'umanità un volumetto da tabula fatti di Fabrizio De Giura una vita vissuta e una testimonianza personale arricchita dalle foto di questa vicenda che viene presentata in questo volumetto diversa naturalmente per la Olski che nella biblioteca dell'archivum romanicum ci presenta il dizionario spagnolo italiano di Nicolao Landucci 1562 di Elena Liberani e Alessandro Parenti allora vedete sfogliando il volume dopo una buona ricca introduzione abbiamo questi termini in spagnolo a sinistra in italiano a destra in ordine alfabetico l'idea partecipativa dall'A alla Z per i libri del borghese che ci vengono da pagine l'idea partecipativa dall'A alla Z principi norme protagonisti di Mario Bozzi Sentieri che cosa hanno in comune Papa Leone XIII è il generale Charles de Gaulle il sindacalista rivoluzionario della dottrina sociale della Chiesa il socialismo gildista e il caporalitivismo fascista apparentemente molto poco lontani come sono nel tempo nei luoghi d'origine nelle culture d'appartenenza e tuttavia ad accomunare questa realtà eterogenee c'è una volontà condivisa di dare risposta non del tutto disomogenea alla frattura fra società e Stato lavoro e nazione rappresentanza democratica e corpo sociale e via di questo passo per questa prima sezione da Erickson lo vedete chiara la copertina vivere bene con la demenza manuale per facilitatori Richard Cheston e Anne Marshall edizione italiana a cura di Samantha Pradelli Eloisa Stella e Erika Borella come nel carattere di questi volumi dopo l'introduzione ecco l'incontro preliminare con i partecipanti e i familiari aiuti e strategie per ricordare via di questo passo sessione conclusiva ricapitolando e nell'appendice vedete tutte le illustrazioni per chiarire il problema dunque vivere bene con la demenza per la Erickson per i libri del Borghese da pagina l'idea partecipativa dall'A alla Z da Orski il dizionario spagnolo italiano di Nicolao Landucci del 1562 questo volumetto di Tavolo Fati una vita vissuta di Fabrizio Di Giura un grosso volume da Carocci l'evoluzione della conoscenza dalle origini all'antropocele di Jürgen Renn eravamo partiti da questa prima ricca sezione dalle Paoline Libera la gioia di Cosè Maria Rodríguez all'Isola da Messaggero Si queris amare se vuoi amare da Vivere in se amor sapesse dalle Dioniane di Bologna il terzo persona teologia dello Spirito Santo Benedetto XVI Dio è sempre nuovo con prefazione di Papa Francesco dalle Paoline goccia dopo goccia pensieri di vita è un ricco grosso volume di Campania Sacra di Acta Criminalia dell'archivio storico di Ocesano di Napoli inventario 1493 1799 è come sempre una piccola ma gustosa appendice con questi volumi da Fara Giampaolo Anderlini variazioni poesie è già indicato in copertina meditate che questo è stato forse aveva ragione Primo Levi quando prima che tutti ci ubriacassimo di memoria scriveva meditare che questo è stato ed io non l'ho ascoltato e tu neppure nessuno ha scolpito quelle parole nel suo cuore ed ora noi siamo figli di parole altrui che muovono alle lacrime ma tengono i nostri passi e i nostri cuori altrui come se tutto fosse stato in vano da Giuliano Adolfi di Luana Minato memoria del silenzio e allora cerco nei ritratti di me un segno impresso la lacrima intrappolata tra le pieghe della pelle la voce che parla quando il resto tace nel tempo in cui era facile smettere di piangere e dimenticare tutto con una semplice carezza ancora un brano ho affrontato o affondato i piedi in un'isola solitaria battuta dai flotti impetuosi e il viso è ruvida corteccia ma non cerco altri lidi in cui approdare nemmeno quando il vento infuria e nessuno appare all'orizzonte e in solitudine mi vesto dell'azzurro cielo mare senza null'altro desiderare che questo mio rifugio dimenticato da tutti e per concludere il respiro dei mari raccolta antologica di poeti georgiani e italiani vedete in questa pubblicazione di Leonida il testo italiano è accompagnato dall'originale georgiano ecco qui a sinistra il testo georgiano a destra la traduzione italiana invecchio io e invecchia il cane che meravigliosa alba stamane gli dicevo con versi di lebanigia e lui con l'alba non puoi meravigliare un contadino era un poeta della terra mio padre dalle sue mani screpolate come zolle affiorava l'autunno le sue dita profumavano d'uva e favo il giardino splendeva di settembre di vita e di fatica poi iniziava a pregare mio padre pregavo pure io nella casetta di legno c'era posto per versetti del Corano e del Vangelo le rondini inebriate dalla Roma del grano turco appena tagliato portavano ad agio il settembre verso paesi caldi e era un poeta della terra mio padre ogni primavera iniziava a scrivere sulla superficie di cento gomiti buona lettura e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti